L'Italia aveva una serie di difetti, lo sapevamo, dai quali non ne potevamo uscire. Se ci aggiungi le politiche europee e la goccia europea, evidentemente la situazione degenera. Quindi o l'Europa decide di riformarsi profondamente, in simultanea le riforme dell'Italia, o chiedere che solo l'Italia si riformi e non si riformi all'Europa, significa seguire una strada sbagliata che ci porta a conseguenze molto gravi dal punto di vista sociale.